Questo video costituisce la seconda ed ultima parte della miniserie iniziata con il video che lascio qui in descrizione e nella scheda qui in alto, nel quale si analizzava dal punto di vista fisico la generazione della tipica curva luminosa a doppio arco in una comune tazza. Se ancora non l'avete visto vi invito a dargli un'occhiata prima di proseguire con il video corrente. Nello scorso video avevamo osservato, tra le altre cose, un fatto abbastanza curioso, che ho volutamente lasciato senza una valida spiegazione e che cercheremo di motivare proprio fra qualche istante. E cioè, per quale assurda ragione la curva luminosa nella tazza presenta lo stesso profilo di quest'altra curva geometrica, ottenuta facendo rotolare una circonferenza su di un'altra? La domanda è lecita, le due cose sembrano in effetti inconciliabili. Da una parte abbiamo un fenomeno ottico, mentre dall'altra abbiamo un fenomeno che potremmo descrivere come meccanico. Ma prima di rispondere a questa domanda, in particolare nella prima sezione del video, scopriremo cosa si intende esattamente con il termine rotolare e come i matematici si divertano a sfruttare il rotolamento di figure geometriche l'una sull'altra per generare le più disparate curve piane. Alla fine, tra queste curve, troveremo proprio le protagoniste dello scorso video. La risposta al misterioso quesito sarà contenuta solamente nella seconda sezione del video, che sarà, diciamo, un po' più impegnativa rispetto ai miei soliti contenuti. Consideratela pure come se fosse una sorta di appendice, destinata alla consultazione, da parte solo dei più curiosi. Prima di iniziare vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale se trovate il video interessante. Bene, direi che è arrivata l'ora di partire. Sigla! Formalmente si parla di moto di puro rotolamento ogni qualvolta un corpo aderente ad un altro si muove rispetto a questo in modo che il punto di contatto possieda, istante dopo istante, una velocità nulla. In altre parole, in modo che non si manifesti alcuno slittamento. Nonostante nell'immaginario collettivo, un corpo che rotola debba avere sezione circolare, come potete vedere, in realtà, non è indispensabile un profilo circolare per ottenere un moto di puro rotolamento. Questo fatto è molto utile per comprendere come, dal punto di vista fisico, sia possibile descrivere l'avanzamento di una comune ruota. Intanto, possiamo immaginare un moto di puro rotolamento come una combinazione di due moti elementari. Una rotazione attorno ad un asse perpendicolare alla ruota e passante per il suo centro e una traslazione della ruota rispetto al suolo. Questo è vero, ma detto così non basta caratterizzare il moto. Per definirlo più esattamente possiamo vedere il profilo della ruota circolare come un poligono, avente un numero infinito di lati piccolissimi. Durante l'avanzamento, tale poligono ruota attorno ad un asse, di volta in volta, passante per uno dei suoi vertici, i quali si succedono, istante dopo istante, rimanendo immobili rispetto al suolo. Ed è proprio per questo che una caratteristica fondamentale del moto di puro rotolamento è che ogni punto della ruota percorre una traiettoria, istante per istante, perpendicolare alla linea che congiunge tale punto con il punto di contatto. Se desiderate vedere anche la seconda sezione del video, tenete bene a mente questa proprietà di ortogonalità, perché sarà fondamentale per rispondere al misterioso quesito. Come tutti sappiamo, l'invenzione della ruota rappresenta una delle più importanti rivoluzioni nella storia dell'umanità. Questo grazie al fatto, sperimentabile da chiunque, che per muovere un oggetto è sempre meglio trasportarlo mediante un mezzo munito di ruote, piuttosto che trascinarlo, opponendosi in questo modo all'attrito offerto dal terreno. Ma perché attorno a noi vediamo solo ruote circolari? E non quadrate, per esempio? Lo so, sembra una domanda stupida, ma provate a dare un'occhiata a questo filmato. Questa è un'installazione presente all'interno del Museo della Matematica di New York, che consente di fare un giro su di un triciclo munito proprio di ruote quadrate. E come potete vedere, la pedalata risulta perfettamente confortevole, priva cioè di scossoni o sballottamenti. In effetti è possibile dimostrare che, sotto adeguate condizioni, dato un certo profilo stradale, è sempre possibile trovare il corrispondente profilo della ruota che permetta di avere un viaggio confortevole, ovvero che consenta di avanzare in perfetta linea retta. Lascio in descrizione un fantastico articolo che analizza nel dettaglio proprio questo curioso fatto. In particolare per una ruota quadrata, come nel filmato in questione, il corrispondente profilo stradale che garantisce un viaggio lineare risulta essere costituito da tratti successivi di catenaria, ovvero quella curva che si genera lasciando pendere una fune con i due estremi vincolati sotto la sola azione del proprio peso. Ecco che, a questo punto, il profilo circolare delle comuni ruote che vediamo intorno a noi risulta essere semplicemente un caso particolare, che diventa una scelta efficiente solamente su una strada piana. In matematica, la curva tracciata da un punto fisso su di un oggetto che rotola su di un altro è detta rulletta o polare mobile. Storicamente, lo studio sistematico e la classificazione delle varie famiglie di curve ottenibili con questo metodo è iniziato nel 1869, grazie agli sforzi del matematico inglese William Henry Besant. L'esempio più semplice di rulletta è la linea retta tracciata dal centro di una comune ruota mentre questa rotola su di una strada piana, che, come abbiamo già detto, è il motivo della diffusione capillare delle ruote circolari. Ma proviamo a rendere le cose più interessanti e, invece di seguire il centro della ruota, proviamo ad osservare la curva tracciata da un altro punto, per esempio questo. Vediamo cosa succede. La rulletta che si genera non è più una linea retta e prende il nome di trocoide, dal greco trocos, ovvero ruota. In particolare, se il punto si trova all'interno della circonferenza, la trocoide è detta curtata. Mentre se il punto si trova all'esterno, la trocoide si dice prolata. Infine, se il punto si trova esattamente sulla circonferenza, al termine trocoide si sostituisce quello di cicloide. Tra l'altro la cicloide è una curva super interessante. Essa ha infatti moltissime proprietà fisiche che la rendono unica e, con molta probabilità, sarà la protagonista di un futuro video. Ma ora non perdiamoci. Finora abbiamo considerato solo strade, per così dire, piane. Ma se ora invece considerassimo una strada ricurva, a sua volta di forma circolare, cosa succederebbe? In questo caso, facendo rotolare la ruota al suo interno e seguendo, al solito, la traiettoria di un punto sulla ruota, si ottiene una curva detta ipotrocoide. Mentre se il rotolamento della ruota avviene all'esterno, si parla di epitrocoide. Anche in questo caso etichettiamo le curve come curtate o prolate secondo il criterio suscitato. Tutte queste famiglie di curve sono, tra l'altro, ottenibili tramite uno strumento grafico detto spirografo, che permette per l'appunto di tracciare le curve generate da coppie di ingranaggi rotanti per mezzo di appositi e fori praticati su di essi. Analogamente al caso di strada piana, le curve tracciate dai punti posti esattamente sul bordo della ruota possiedono un nome speciale, ovvero ipocicloidi se la ruota sta all'interno ed epicicloidi se la ruota rotola all'esterno. Le curve appartenenti a queste due famiglie si differenziano in base al rapporto tra le dimensioni della circonferenza fissa e della ruota. Vediamo qualche esempio partendo dalle ipocicloidi. Se il raggio della ruota è un quarto di quello della circonferenza fissa, la curva che si genera viene chiamata astroide, data la sua apparente somiglianza con una stella. Se invece il raggio della ruota risulta essere un terzo rispetto a quello della circonferenza fissa, la curva che si ottiene è detta deltoide, dato che ricorda la lettera greca delta. Ma a mio parere la curva più particolare e controintuitiva si genera con una ruota di raggio dimezzato rispetto a quella della circonferenza fissa. In questo caso, infatti, si ottiene sorprendentemente un perfetto segmento rettilineo. Questa sorta di macchina matematica è chiamata coppia di Tusi ed è stata studiata dall'astronomo persiano Nasir Aldin Altusi nel lontano 1247, per poi essersi rivelata in anni più recenti la base da cui sviluppare soluzioni ingegneristiche per trasformare il moto rotatorio in moto lineare e viceversa. Ma è solo facendo rotolare la ruota all'esterno della circonferenza fissa, considerando cioè le epicicloidi che ritroviamo finalmente le curve protagoniste dello scorso video. Infatti, nello specifico, quando le due circonferenze hanno lo stesso raggio, un punto sul bordo della ruota genera proprio una cardioide, la quale, se vi ricordate, è visibile sotto opportune condizioni intazze dalla forma troncoconica. Se invece la ruota possiede un raggio dimezzato rispetto a quello della circonferenza fissa, la curva tracciata risulta essere proprio una nefroide, che, come abbiamo evidenziato nel precedente video, è talvolta osservabile all'interno di tazze cilindriche sotto forma di semi nefroide. Riducendo via via il raggio della ruota, è possibile ottenere tutta una serie di epicicloidi, con un numero crescente di cuspidi e un'aumentata complessità nel caso si considerino raggi frazionari o, addirittura, irrazionali. Ma adesso concentriamoci sull'epicicloide bicuspide, ovvero sulla nefroide, e consideriamo questa particolare costruzione come la vera definizione di questa peculiare curva. È arrivato, infatti, il momento destinato ai più curiosi, ovvero quello di spiegare la connessione tra questa curva e la scia luminosa nella tazza. Ho riflettuto molto su come affrontare la spiegazione, e questo perché la maggior parte delle argomentazioni esplicative di questa connessione sfrutta strumenti matematici, diciamo, avanzati, o con i quali comunque la persona media non necessariamente sa destreggiarsi, ovvero elementi di calcolo differenziale. La mia lunga riflessione mi ha portato ad un'estesa ricerca, e questa ricerca, a sua volta, mi ha condotto verso questo. Geometry and the Imagination, traduzione inglese, dall'originale in tedesco, di un fantastico libro del 1932, scritto dai matematici tedeschi David Hilbert e Stefan Kohnbossen. Il testo, basato su una serie di lezioni tenute da Hilbert tra il 1920 e il 1931, presenta uno stile a metà tra divulgazione e didattica, e rappresenta un tentativo di fare apprezzare alcuni tra i più affascinanti risultati matematici ad un pubblico non esperto. È proprio tra le pagine di questo libro che ho scovato una meravigliosa dimostrazione che può fare al caso nostro, dato che utilizza solo risultati geometrici di gran lunga più accessibili rispetto al calcolo differenziale. Proviamo dunque con lo stesso spirito di Hilbert, a metà tra divulgazione e didattica, a riportare la sua affascinante argomentazione. Vediamo insieme i 5 strumenti matematici di cui dovremo disporre per comprendere la dimostrazione. Durante il rotolamento lungo la circonferenza fissa, il punto generatore sulla ruota percorre una traiettoria, istante per istante, perpendicolare alla linea che congiunge tale punto con il punto di contatto tra le circonferenze. In pratica, se fotografiamo il rotolamento in qualsiasi istante, questo angolo è sempre di 90 gradi, e questo lo avevamo già evidenziato in precedenza. Gli angoli alterni interni in una coppia di rette parallele tagliate da una retta trasversale sono identici, cioè molto semplicemente, ad esempio, questi due angoli sono uguali. So che sembra un risultato scontato, quasi stupido, ma vi assicuro che dal punto di vista matematico questa cosa andrebbe dimostrata. Ma tranquilli, noi non lo faremo. Un triangolo iscritto in una circonferenza che ha perlato un suo diametro è sempre un triangolo rettangolo. In poche parole, questo angolo vale sempre 90 gradi, qualunque sia la posizione del vertice sulla circonferenza. Tra l'altro, questo risultato rappresenta un caso speciale del prossimo teorema, necessario anch'esso per i nostri scopi. Un angolo iscritto in una circonferenza è sempre la metà dell'angolo al centro che insiste sullo stesso arco. Ad esempio, se l'angolo al centro è di 60 gradi, allora l'angolo iscritto varrà la metà, ovvero 30 gradi. Questo è vero per qualsiasi altro angolo iscritto che insiste sullo stesso arco. Nulla di complicato, insomma. Fissata la lunghezza dell'arco, angolo al centro e raggio sono inversamente proporzionali. Cosa vuol dire molto semplicemente? Prendiamo due circonferenze, la prima con raggio 1 e l'altra con raggio doppio, ovvero 2. Ora consideriamo per entrambe un angolo al centro che insiste su di un arco della stessa lunghezza. Immaginiamo che per la più grande l'angolo al centro valga 30 gradi, allora l'angolo al centro per la più piccola è il doppio, ovvero 60 gradi. Tutto qui. Tutti questi risultati, tralasciando il primo, si ricavano a partire dalle basi della geometria euclidea, che rappresenta tra l'altro le fondamenta dell'intera geometria e di solito viene studiata alle scuole medie. Ed è proprio per questo che era necessario un piccolo ripasso. Lascio inoltre in descrizione qualche fonte utile nel caso voleste visionare la dimostrazione dei teoremi appena esposti o comunque desideraste approfondirli. Ma ora direi di non perdere altro tempo e di partire finalmente con la dimostrazione. Teorema. Un fascio di raggi luminosi e paralleli che incide sull'interno di uno specchio semicircolare genera un inviluppo di raggi riflessi che ha il profilo di una seminefroide. Ricordiamoci che per nefroide intendiamo, per definizione, la curva generata con questa costruzione, dove la circonferenza mobile ha un raggio dimezzato rispetto a quello della circonferenza fissa. Bene, dimostriamo l'enunciato. Inizialmente il punto generatore fisso sulla circonferenza mobile si trova nel punto di contatto P tra le due circonferenze. Iniziamo in questo momento a fare rotolare la circonferenza più piccola su quella più grande. Blocchiamo il movimento ad un generico istante e ragioniamo. Osserviamo innanzitutto che durante il moto il punto generatore ha percorso un certo arco di nefroide, finendo nella posizione P1. Diamo intanto un nome agli elementi del disegno che ci saranno utili. Iniziamo dai seguenti quattro punti allineati. M è il centro della circonferenza fissa, M1 è il centro della circonferenza mobile, Q è il nuovo punto di contatto tra le circonferenze e infine R è il punto sulla circonferenza piccola opposto a Q. Chiamiamo inoltre T la retta tangente alla nefroide nel punto P1 ed S la retta parallela al segmento MP è passante per il punto R. Infine chiamiamo questi due angoli alfa e beta. Bene, innanzitutto assicuriamoci che la retta T tangente alla nefroide passi davvero oltre che per il punto P1 anche per il punto R. Infatti, nonostante il disegno stesso ci mostri giustamente questa circostanza, fare passare la retta T per il punto R senza una valida motivazione logica rimane una scelta arbitraria. Ma rimediamo subito. Essendo Q il centro istantaneo di rotazione della circonferenza mobile, la traiettoria del punto P1 e quindi la retta T sarà perpendicolare al segmento P1Q. Se mostriamo logicamente che anche il segmento P1R è perpendicolare al segmento P1Q, allora sarà corretto affermare che la retta T passa per il punto R. Ma questo è semplice. Il triangolo P1QR, essendo iscritto in una circonferenza e avendo un lato coincidente con il suo diametro, è un triangolo rettangolo. Insomma, P1R è in effetti perpendicolare a P1Q e dunque ha perfettamente senso disegnare la retta T passante per il punto R. Ma perché ci interessa che la retta T passi per il punto R? Beh, perché se ci fate caso, a questo punto possiamo vedere R come il punto di incidenza, sullo specchio semicircolare, di un raggio di luce lungo la retta S. E la retta T cosa rappresenta quindi? Beh, se riusciamo a dimostrare come in effetti il disegno suggerisce, allora la retta T altri non è se non il corrispondente raggio riflesso. Troviamo una catena logica che mostri l'uguaglianza degli angoli alfa e beta e abbiamo vinto. Infatti in questo modo avremo riprodotto fedelmente il fenomeno della riflessione ottica e avremo mostrato che il raggio riflesso, essendo tangente alla nefroide, va in effetti a contribuire alla creazione di questa specifica curva. Facciamolo! Prima di tutto notiamo che, banalmente, l'angolo alfa è identico all'angolo al centro PMQ, essendo questi due angoli alterni interni. Ora è evidente che l'angolo al centro PMQ sia la metà dell'angolo al centro P1M1Q. Perché dite? Beh, dato che la circonferenza piccola rotola senza strisciare sulla circonferenza grande, è ovvio che gli archi PQ e P1Q abbiano la stessa lunghezza e, dato che per definizione il raggio della circonferenza piccola è dimezzato rispetto a quello della circonferenza grande, si ha la tesi. Costruiamo, infine, l'ultimo anello della catena logica. Se ci facciamo caso, beta è un angolo inscritto nella circonferenza piccola, che insiste sull'arco P1Q e quindi, essendo P1M1Q l'angolo al centro insistente sullo stesso arco, l'angolo beta è, anch'esso, la metà dell'angolo P1M1Q. Questo conclude la catena logica e mostra, in effetti, lo stretto collegamento con la riflessione ottica. Dato che questo ragionamento si può applicare a tutti gli altri infiniti raggi di luce paralleli che costituiscono il fascio incidente, allora i corrispondenti raggi riflessi saranno, punto per punto, tangenti alla traiettoria del punto generatore e si sovrapporranno dando vita ad un inviluppo luminoso a forma proprio di semine freude. Fantastico, un sodalizio tra fisica e geometria è stato ufficialmente celebrato e noi tutti ne siamo stati testimoni. Ok, questo video è stata una vera e propria mazzata, soprattutto la seconda sezione, lo ammetto. E se anche voi siete rimasti fino alla fine, spero di non avervi annoiato, ma di avervi fatto apprezzare, almeno un po', questo, all'apparenza banale, fenomeno della vita di tutti i giorni. La nostra esplorazione dei fenomeni legati alla fisica sotto il naso è appena cominciata ed è per questo che vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui progetti futuri. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace se avete trovato il video interessante. Io come al solito vi ringrazio per la visione e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!